ben tornati ragazzi su PES 2016 siamo qui in divisione 11 e oggi proveremo a fare i punti necessari per andare in divisione 10 se gli avversari me lo permetteranno. Il mio avversario ha una buona squadra e ha come punte di diamante, ha appunto anche lui Baggio e Daniele De Rossi attenzione subito il nostro avversario che trova ad avanzare il giro ma le ari smanaccia primo pericolo portato dal nostro avversario nooo! Traversa incredibile ragazzi il suo avversario è partito fortissimo vadole! C'è il gol! Non so Diego Godin che cazzo stava facendo la bella statuina nel bosco simone tiro gol, grazie a me ragazzi nulla da fare questa partita si è messa a manare proviamo di recuperarla scelazioni molto pericolose grande pallone dentro attenzione Lewandowski al tiro Lewandowski gol 2 1 avvolgiamo il distancio il distancio è proprio di Lewandowski nella relazione 1 gol Caicedo Caicedo ancora ha fermato fermato Caicedo ma recupera la palla e dentro subito Lewandowski Lewandowski Caicedo al tiro gol pareggio 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 ragazzi 2 tiri 2 gol Caicedo sempre più forte 2 tiri 2 gol 2 al 2 attenzione pallone dentro attenzione ancora lui e c'è ancora il miracolo miracolo di Leali che sta crescendo con la mia squadra ha sperimentato il suo vero Caicedo Lewandowski dentro ancora Caicedo Caicedo finita ancora lui Caicedo dentro con Lewandowski gol 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 5 vantaggio rimbalcato del futuro 3 a 2 ha sbagliato tutto il nostro avversario ragazzi mi prova a fare arbitro però qualche volta i falli si può anche fischiare pallone ancora dentro Robert lotta Robert al tiro gol Robert Lewandowski 4 a 2 4 a 2 ragazzi 4 a 2 dove è ribaltato del tutto attenzione ha già battuto attenzione al tiro fuori si è divorato il gol pallone dentro Caicedo ancora dentro Caicedo si allunga palla pallone che rimane lì Caicedo nulla da fare non ci capivo più il cazzo ragazzi non ci stavo capendo veramente più nulla no e viene fermato qui Baggio in 3 bravissimi i miei difensori quella dentro palla Baggio vede lo scatto ancora Caicedo guardate che azione ragazzi azione bellissima pallone dentro cross non ci arriva Lewandowski ma che azione ragazzi che azione tiro è parata ma c'è ancora in ballo il gol 4 a 3 ragazzi non riesco più a uscire da qualche minuto non riesco più a uscire ragazzi mettiamola via e finisce finisce la partita 4 a 3 ragazzi in rimonta ce l'abbiamo fatta ho sofferto ma ci siamo portati a casa altri 3 punti e quindi potreggendo andare in divisione 10 però la prossima partita ragazzi me la faccio ancora in divisione 11 se mi continuo ad allenare magari faccio qualche cambio ok ragazzi ci siamo fra poco con la seconda partita ok ragazzi eccoci tornati con la seconda partita siamo sempre in divisione 11 e per questa partita ragazzi ho rimaneggiato la squadra gli unici titolari che mi sono rimasti sono leali godin e terry quindi portieremo difensioni centrali il resto sono cambiati tutti Neymar Neymar se ne va solo Neymar è solo c'è un difensore a chiudere Neymar Neymar arbitro e il tiro la parata ancora il tiro gol 1 a 0 Giacic 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 1 a 0 lì c'è la pallaccia su Neymar non è neanche fischiato no 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 fuori di pochissimo attenzione pallone dentro c'è ancora le ali bravissimo le ali mariano tiro pareggio come al solito lentissimo scalare il giocatore e ha pareggiato ragazzi uno pari io ci provo ragazzi lo faccio cerchiare da qua vediamo Neymar Neymar parata parata del portiere ma bella posizione di Neymar dentro per Neymar la sua difesa altissima non ha fatto uscire il portiere Neymar 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 ancora ha fermato tiro di Neymar fuori di pochissimo dobbiamo crescere un po' ragazzi proprio come pressing attenzione Giacic Sturaro il tiro esterno della rete Sturaro vicinissimi al raddoppio non è nulla da fare bravo John Terry a vincere ancora per un contrasto dentro Giacic e ma Giacic tiro 2 a 1 a Giacic 2 a 1 ragazzi non ci riportiamo un vantaggio attenzione ora l'avversario subito che prova in una reazione ma non ho da fare tiro veramente molto debole bravissimo Isco stavolta si è libera di 3 Young dentro Neymar 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 è solo parata del portiere ho sbagliato ragazzi un po' già fatto Giacic deve combattere però bravo Giacic pallone dentro Neymar anticipato tiro di Isco parata ho Isco Sturaro ragazzi non ho visto chi fosse di 2 attenzione ora che ci prova ancora il tiro parata stavolta di Leali lo sa soltanto lui no ragazzi ma c'è per fortuna Leali mi è fermato però ha capito tutto no bellissimo ragazzi bellissimo il gol ha agganciato bene ma ha segnato c'è ancora lui in avanti tiro di Paloschi fuori di pochissimo tiro è miracolo miracolo di Leali nulla da fare e finisce qui ragazzi ok finita con un bel pareggio 2 a 2 quindi 4 punti conquistati per un totale di 7 punti quindi siamo già in possibilità di andare in divisione 10 nel prossimo episodio vedo se continuare a fare allenamento sulla divisione 11 o se già portarvi la divisione 10 ragazzi spero che l'episodio vi sia piaciuto se è così lasciate un like se volete commentate condividete il video mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video qui da Gionnero 83 è tutto bella ciao ciao ciao